Cuffia sotto i 60 euro? Forse ne ho trovata una che potrebbe andare bene per il tuo studio, ma prima sigla! Ciao bentornato sul mio canale, io sono Marco. Prima di cominciare questo nuovo video, hai capito di cosa sto parlando? Ti invito ad iscriverti, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei canali social. Giro vagando per il web, mi sono imbattuto in un prodotto. Come sai e hai già visto nel mio canale quello che pubblico, che faccio, ogni tanto vado a cercare anche dei prodotti un po' particolari, un po' di nicchia, magari non sono tanto conosciuti, o meglio, magari io non lo conosco, magari tu lo conoscevi già questo prodotto, quindi ti chiedo scusa se non l'ho beccato subito, ma mi piaceva portarti qualcosa di diverso. Come ben sai io, per quanto riguarda il mix in cuffia, ho le Beyerdynamic, le DT 990 Pro, ma mi sono chiesto, oltre alle blasonatissime Audio Tecnica, Ollo, chi più ne ha più ne metta, KGS e Neiser, c'è qualche altro prodotto interessante a un prezzo buono? Forse l'ho trovato, o forse no. Fatto sta che mi è arrivato da poco questo prodotto qua, l'Extra 10 della EZI. Sono andato un po' a giro gare online, chi è la EZI? È un'azienda tedesca che produce prodotti per lo studio. Che cosa ho trovato che produce? Produce anche schede audio e quant'altro. Produce, come ti dicevo, è un'azienda tedesca, adesso qua ti faccio vedere un po' il loro sito. Che cosa produce? Andiamo nella prima parte. Produce varie cose, tipo USB, monitor speaker, interfacce MIDI, monitor controller, PCI, insomma un po' tutto quello che è il... Adesso ne prendo uno, anche un dei pre, solo, ah, direttamente proprio dei pre, eccolo qua, la U10 pre, con anche addirittura il mix out, output, cioè sembrano prodottini, sono schede audio, a un momento la mia ignoranza è che non le conoscevo, ma come uno può immaginare, c'è tanta roba che nel mondo non si conosce. Tra questi ho trovato anche, vabbè hanno anche dei monitor, e poi ho trovato che hanno queste cuffie, le extra 10. Mi ha incuriosito perché queste cuffie hanno un costo veramente contenuto. Stiamo parlando di 59 euro da un noto rivenditore non italiano. Onestamente io dal girovagato non mi sembra di averle viste in vendita in Italia, o se le ho viste chiedo scusa se non mi sono accorto dove le stavano vendendo. Ho anche provato a mandare una mail al distributore, ma non mi ha risposto, va a sapere il motivo che sanno solo loro. La cosa particolare di queste extra 10, che adesso andrò ad aprire, quindi andiamo a vedere come sono fatte e quant'altro, è incluso anche un software, che è questo software qua, il RealPhone, che è un correttore per cuffie, come c'è Sienna, vabbè Sienna è un'altra parrocchia, però è B-Road e quant'altro, l'avevo già provato perché mi era uscita la pubblicità di questo prodotto, quindi è una cosa che mi ha incuriosito, allora adesso andrò a spacchettare le mie ESI 10, le extra 10, poi le proverò un po' col software che è a corredo, quindi hai sia nel prezzo che ti ho detto, hai sia le cuffie che l'altro, e poi ti andrò a dire come, innanzitutto andremo a vedere come sono fatte, e insomma come suonano, come le sento rispetto alle Bear Dynamics. Ok, ci siamo spostati sulla Do, allora quello che vedi è il RealPhone, l'ho scaricato, allora io ho provato a lavorare un po' con queste cuffie, il RealPhone che ti danno a corredo della cuffia è un Easy Edition, ovvero è tarato, come puoi vedere, per le cuffie, poi vabbè c'è anche le standard delle Open, ma è predisposto per questo, è limitato nella versione originale, ovvero non puoi andarti a scegliere quello che sono gli speaker che loro hanno campionato, ho già spiegato in un altro video come funzionano questi software, quello che puoi vedere, puoi decidere, diciamo di chiudere il, aprire o chiudere il controllo di tono, per il resto non ti, ti impedisce, puoi dare un po' di più la pressure, e un po' di più la presence, ma in realtà quello che gli altri controlli, tipo vabbè ancora Density e Warm, puoi controllare, in realtà non ti permette di fare molti 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 controlli, questo perché è una versione limitata del software, cercherò poi prossimamente di portarti magari la recensione completa del prodotto, questo oltretutto perché loro ti danno comunque la possibilità di scegliere vari vari preset, adesso per esempio andiamo a prendere un, carichiamo il primo, che è quello relativo al realistic room, poi c'è l'optimize correction, ti cambia, vedi gli ambienti, le hanno già cablati loro, interessante può essere il discorso del mix check, vedi che col mix check cambia, per esempio hai lo hi-fi set, lo carichi, vedi cambia sulle casse, e cambia la percezione dell'ampiezza stereo, diciamo che la comodità può essere giocare un po' con questi preset, trovare quelli che sono i tuoi preferiti, se devi mixare consiglio, io ti metterai un mix in basic full correction, lui lavora solo sulle casse grandi e stringe, non ti faccio sentire come corregge, e ti spiego il motivo, non te lo faccio sentire perché corregge su queste cuffie, non sarebbe veritiero, allora, come suonano le ESI 5, ESI 10, le ESI extra 10, come suonano? Diciamo subito una cosa, rispetto alle DT 990, non c'è da far paragone, la cuffia suona, non è dettagliatissima, mentre con le 990 ho dei dettagli sulle altissime e sulle bassissime, molto molto pronunciati, qui le sento un po' meno precise, un po' più d'ascolto, tra virgolette, a livello costruttivo, ne ho già parlato prima, si vede che non sono costosissime, anche da queste piccole piccolezze, si vede, utilizzo, non sono scomode, le ho utilizzate per un po' di tempo, non sono assolutamente scomode, anche se mi preoccupa questa parte in similpelle, ho paura che si rovini dopo un po', il suono, te ti ho già detto, è un suono non a livello delle 990, non a livello di altre cuffie che ho provato, te le consiglio? Sì, te le posso consigliare, per un motivo, perché a questo prezzo, stiamo parlando di, se mi ricordo mai, 59 euro, ti porti a casa una cuffia discreta e un software di correzione, il che fa sì che tu sia pronto già per quello che il discorso di mix, ovvero 59 euro, hai anche già software, quindi, secondo me è un prodotto interessante, soprattutto se sei alle prime armi e hai poco budget, perché la cuffia non costa cara, quindi, esi extra 10, diciamo che le ho approvate, per un discorso di, costo, e di feature, perché darti il software, è quella una cosa, molto molto utile, questo video è terminato, ti invito ad iscriverti, attivare la campanella, e seguirmi anche sui miei canali social, e se vuoi andare anche sul mio sito, che è marcolemandi.it, puoi iscriverti alla newsletter, per rimanere sempre aggiornato sul canale, ti aspetto di nuovo, sul mio canale, ciao! Grazie a tutti!